Cari fratelli e sorelle, oggi desidero parlarvi di qualcosa che rattrista molto il mio cuore, la guerra in Siria, oramai entrata nel suo quinto anno. È una situazione di indicibile sofferenza di cui è vittima il popolo siriano, costretto a sopravvivere sotto le bombe o a trovare vie di fuga verso altri paesi o zone della Siria meno dilaniate dalla guerra, lasciare le loro casse, tutto. Penso anche alle comunità cristiane, a cui va tutto il mio sostegno a causa delle discriminazioni che devono sopportare. Ecco, desidero rivolgermi a tutti i fedeli e a coloro i quali sono impegnati con Caritas nella costruzione di una società più giusta. Mentre il popolo soffre, incredibili quantità di denaro vengono spesse per fornire le armi ai combattenti e alcuni dei paesi fornitori di queste armi sono anche fra quelli che parlano di pace. Come si può credere a chi con la mano destra ti accarezza e con la sinistra ti colpisce. Incoraggio tutti adulti e giovani a vivere con entusiasmo quest'anno della misericordia per vincere l'indifferenza e proclamare con forza che la pace in Siria è possibile. Per questo siamo chiamati a incarnare questa parola di Dio. Io infatti conosco i progetti che ho fatto al vostro riguardo, dice il Signore. Progetti di pace e non disventura per concedervi un futuro pieno di speranza. L'invito è di pregare per la pace in Siria e per il suo popolo in occasione di veglie, di preghiere, di iniziative, di sensibilizzazione e nei gruppi e nelle parrocchie delle comunità per diffondere un messaggio di pace, un messaggio di unità e di speranza. Alla preghiera poi seguono le opere di pace. Vi invito a rivolgervi a coloro i quali sono coinvolti nei negoziati di pace affinché prendano sul serio questi accordi e si impegnino ad agevolare l'accesso agli aiuti umanitari. Tutti devono riconoscere che non c'è una soluzione militare per la Siria, solo una politica. La comunità internazionale deve pertanto sostenere i colloqui di pace verso la costruzione di un governo di unità nazionale. Uniamo le forze a tutti i livelli per far sì che la pace nella matta Siria sia possibile. Questo sì che sarà un grandioso esempio di misericordia e di amore vissuto per il bene di tutta la comunità internazionale. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Grazie.